Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre il vostro AndriGamer, oggi siamo qui in un nuovissimo video di... Bene, una nuova serie che vogliamo iniziare, Dragon Ball Z, Shine Nudo, Kaiji... Com'è? E siamo qui però, comunque, come avete sentito la voce, con... Aldo 09... Aldo 09... Però le presentazioni... Sì, vabbè... Allora, io, guarda, questo è il secondo account, se il primo ho commentato tutto... Ok... Ho sboccatato proprio tramite Gokko su 64 livello, perché non ho trovato il metodo, però l'ho visto in combattimento, l'avevo tutte le volte. Perfetto. Allora, questa è la mia missione, praticamente, dovremmo scoprire Gokko, siamo venuti nel trance, e se riusciamo a venire a vincere, vabbè, qua, i mazgill... Salve tutti! Salve tutti! Poi, venite, ci spieghi, la cosa sono questi, sono dei boost, che vengono, ci ritrovano nell'avventura, sono molto utili. In questo caso, sono proprio quelli, la base, che si sboccheranno, vengono, uccidendo avversari. Molto interessante! Io ti canta! A casa? Sì, avete, non so se conoscete Snidex, Snidex si è comprato la Sandboard, io visto che sono povero, non posso comprarmi una cosa del genere. Io sono scaricato l'applicazione sul cellulare, e adesso ho visto tutti i belli suoni. E quando avremo finito questa missione, si bloccheremo, Trunks Super Saiyan... Ah, ragazzi, ovviamente con questa applicazione, ogni video, Snidex si suoni a caso, perché non abbiamo niente da fare. No, me lo scordi, ragazzi, sta mossa. Sì, vabbè, comunque... Snidex si suoni a caso, vettuale... Io dovevo avere messo quella mossa, tipo, attacchi a distanze... Metto anche, perché non vai a pregare la padronina? Cosa? Mi sembra di... Chissì, chissì... Chissì, chissì, chissì... Vabbè, prima andato... Vabbè, Angleterra, vabbè... Ragazzi, stanno succedendo casino qui, in questo posto... Siamo in un bigola... Sì, ecco, ci stanno anche i pizzi che ci osservano... Ecco qua, Ruggs è frutto, c'è una nuova sformazione... Sì... Ah, comunque, questa è l'emulatore della PSP, per chi non l'aveste capito... Ecco... Basta che sul Play Store scrivete che dobbiamo cercare Dragon Ball Z... No, Dragon... No, Dragon Ball Z... Sceni Budokaiji... Sì, e potrei scrivere Budokaiji? No, cercare Dragon Ball Z... No, escono partita di giochi del cavolo... Ah, ok, escono le cose pezzotte... Cioè, tipo... Vabbè ragazzi, se arriviamo... Facciamo così... Se arriviamo a 15 like per questo video, faccio il tutorial su come scaricarlo... Ma... Non è che c'è una scienza di Gesù Cristo andare sul lato... Silenzio! Allora... Vabbè... Si sta colpendo a casa... Comunque questo video non durerà più di... Morece! Questo video non durerà più di 10 minuti comunque ragazzi... Non deve durare più di 10 minuti... Fidiamo i primi il recapitolo lì e stiamo a posto... Allora... Comunque ragazzi... Ehm... Ehm... Vi ribadisco... Vi ribadisco... Qui dice like tutorial... Perfetto... Allora... Non è che ci vuole la scienza di Gesù Cristo è sceso in terra... E lo so... Per chiedere like... E comunque ragazzi... Ehm... Ehm... Se volete... Altri video... Cioè... Se volete altri video di questo gioco... Arriviamo a 10 like... Onesto... 118! Mi sembra me la dovrei mettere perchè... Forse mi metterà... Arriviamo quindi a 10 like per un nuovo episodio... Di questa fantastica serie... Iniziata da... Waldo09 Gesù Cristo... Io non so come chiacchi su mette la camicia... Con le mani... Ehm... Comunque... Forse farò... Anche io a volte... Episodi su questo gioco... Dragon Ball Z... Shiny... Come si chiama? Shiny... Shiny... Oh my god... Shiny... Cazzo Kai... Cosa? No... Ho detto la parolaccia con la... Con la Z... Adesso mi mettono... Adesso mi mettono una modalità con restrizione... Porco il cactus! Eh... Non è... Non è... Non è... Non so più dire le parolacce... Non so... Non era con restrizione... Eh... Vedi... E fa vincere... Otre... No... Io l'ho visto da qui su serio... Vabbè... Mamma... Non sono dormendo... Vabbè... Perché la capisce... Scriva... Ugo... 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 Chi non sapesse... Comunque... 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 Ragazzi... Lo state chiedendo... Con... 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 Impazienza... Il video dei... Il video dei... Il video dei trick... Del... Il video dei... Il video dei trick... Del... Del fidget spinner... Arriverà prestissimo... Ragazzi... Cos'è tanto il trucco che... Devo... 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 i migliori trucchi che riesco a trovare in giro e alcuni anche li ho inventati in video così vi potrò far vedere un sacco di trick e farvi un video bello sostanzioso, divertente e tutto ma poi se non vale che tipo... veloci un po' la scena perchè ci vuole un po' rocco vabbè l'importante è che... allora secondo il video ho il re, finiamo molto quando... ok ci stanno lì, va bene goku, gohan e mo, trunks ce lo cambiamo che abbiamo più? oi genita però è una sua pomona normale quindi così trunks è più dura goku, secondo... che abbiamo bloccati? grillino piccolo... no... metto qualcosa solo uno, due, tre, quattro, cinque, sei metto qualcosa a casa a sé davvero prima no quella letta rocca quella letta rocca perchè si deve scaricare tutti i fai e invece questa è meglio la farò io prima goku! ma se goku è il menonardo come fa ad essere anche l'avversario? cioè abbiamo goku qui e l'altro goku quella è la versione chi si chi si chi si chi si teramo ah metterò comunque nella mia sonde board metterò quasi gli stessi con gli sneakers però ce ne saranno anche alcuni esclusivi e comunque tu non dite parolaccio il cartone di video finisce la modalità con restrizioni io danno la censurata quindi vabbè i video non finiranno con le mie descrizioni youtube tu non mi guardi allora ragazzi finiamo questa versione ragazzi abbiamo abbiamo trovato il gioco su play store io mi raccomando comunque il link di download cioè se volete a 15 like vi lascio solo il link di download se non lo sapete trovare vi do proprio io faccio proprio il tutorial però comunque cercate di raggiungerli subito perché visto che questo gioco visto che questo gioco è protetto da copyright perché è un gioco per la PSP non resterà tanto tempo sul play store quindi cerchiamo di mostrare da più di tanto ah ok c'è nel Budokai 2 e la cosa a me funziona c'è nel Budokai 2 ecco l'eccollo ecco l'eccollo psnob vabbè sconvincito ma io più che altro invece di scaricarmi questo qua me lo scarico direttamente sull'emulatore della PSP cioè tu hai nemulatore della PSP? si basta che scrivi basta che scrivi questa eh pp e ppp c'ho un pph e ragazzi non dimenticatevi che che se che che se per esempio finite nei guai non lo so il vostro canale non fa più visual potete provare a chiamare il che ragazzi che non è che le faccio tante e si scrivete da canale fa schizzerò 4 no e io ho censurati noi perchè è un bovino è un bovino non lo conoscerò non lo conoscerò la banda di sceme non lo avevi comandito no 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 come quando incontro angelo cagliotto con il bassottello di un metro al metro bassottello ma non è che è bassottello comunque ragazzi quando finire al finire di questa partita finire anche il video visto che ha durato ben dieci minuti dieci minuti muore muore cioè muore così finisce anche io no muore c'è un wrist muore muore no no muore 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 15 like vi lascio o il link di download oppure il tutorial su come scaricarlo mi sa fare anche mio nonno e comunque ragazzi al prossimo video con AndriGamer e Ad09 è un tizio ciao